Comunque mi senti bene perché mi sa che me la... Eh, ogni tanto fai un robotico, però abbastanza bene, sì. Voglio capire se magari mi ha cambiato dei settaggi, spero di no, però non si sa mai. Quindi nel frattempo che la partita non inizia, guardavo un attimo qua. So, per esempio, eh, un account, collegamenti. La zia per fortuna è un fesso. Cioè, il cleanse. Ah, come se potesse usare. Esatto, non funziona, però mi sa che non lo sa, eh. Forse no. Ah, sono robotico, non ho idea di cosa sia, per cosa sia dovuto. Controllo automatico del guadagno, per me è questo. Forse adesso farò meno sono robotico, ci spero. Ah beh, comunque mi senti bene. Sì, sì, sentirti bene. Sento bene, quello sì. Let's go. Ah. Hai un nome davvero bellissimo. Cioè quale? Soprattutto la D. Ah, la D? Molti dicono, Fieric, ma guardi One Piece, segui One Piece. Io dico, no, ragazzi, io non guardo anime. Non è quello? No, è per, stava per D, T-H-E, ma non ci stava. Ah, ok. Come dire, The God, hai capito? Ah, ok. E sembra proprio quello. Sembra proprio quello. E invece no, ragazzi, non è per One Piece, cioè l'ho guardato per carità, so cos'è One Piece, però non è la D, non c'entra nulla con One Piece. Sai anche che il nostro Aatrox pinga 2400? So anche che il nostro Aatrox ha scelto Aatrox con il letto al tempo, che magari ci sta. Ecco, ecco, arrivederci. Problema risolto. No, lo sfondo, letteralmente lo sfondo. Esatto. Problema risolto, comunque. Ah, no, è tornato, ecco. Sono in promo. Cam, non ho idea, Ibra, cioè, non ho idea di cosa sono, cioè, non ho idea di quanti punti ho staccato. Vabbè, sembra la storia della mia vita. Mi sono fregato talmente tanto. Probabilmente bisogna compensare la scarsaggine di Atras, perché io dubbio se veramente che vincerà la lane, però... Vedremo. Però me lo tanchi un colpettino. Grazie. Madonna, me l'ha tancato a puzza, cioè, sono dovuto proprio spostarmi. E te l'hai da taccarti anche due o tre colpi, è bravo. Sì, sì, è bravo, c'è, lo già è, però lui, sai com'è. Magari non se l'ha sentiva. Mid vi siete già menati, vedo. Sì, ma io li tiro un po' di via ogni tanto. È lui! È lui, ora ci muore. Mamma mia, ecco! Oh! È il ping, è il ping, non il champ che ha preso, assolutamente no. È raccontato 20 a 1. Non ci avrebbe creduto nessuno, ragazzi, a meno male che ha il TP. Fuck my life. Benvenuto nell'eloplatino, Ian. Ma guarda, ci sono stato un po' tanto, eh. Ah sì? Che poi non ti si differenzia tanto dal diamond, tranquillo. No, no, ma lo so. Non si differenzia tanto dal diamond. Cioè, almeno non c'è. Sono stato in diamond 5, guarda, mi son divertito un sacco. Quindi dipende come la prendi, o ti diverti o impazzisci. Niente, c'è Warwick qua. Non puedo venire, top. Ma invece sì. Warwick, hai caduto il cazzo. Va te ne affanno. Parecchio noio, sto utilizzando. Tanto non c'è Warwick adesso. No, ma ha inculato. Alla, che t'ha fatto? Mi ha inculato. Però ha flashato. Perché Atrox ha inculato lei. Ok. Qua mid non so far cosa, la passeggiata. Non sa che fare, Warwick livello 3. Cioè, ora lei è in push a bestia, non si accorge nessuno della sua presenza. Questo mi sta dando un po' il cazzo. Tipo adesso sta andando bottling. Mi sta dando un po' il cazzo, il tipo. Eh, ma è zizzo, il kebab bar. Eh, sì. È abbastanza, è abbastanza, è abbastanza oppressivo, sa come giocarlo. Una volta, appena ha letto che, su Repubblica, che volevano bannare il kebab dall'Europa, si è triggerato. La mi distacchia, la cosa. Stronizzata abissale. È cagata, allucinante. Cazzo. Irelia knows. Penso, allora, non ho idea se se ne è andato, Mazzir, o... Pensa bene, è callato, eh. Anche se... VV qua. Non capisco il senso, ma vabbè. Scusate ragazzi, non leggo la chat, perché sono molto impegnato. Cioè... Eh, ma sai, quando devi giocare con Aatrox, non puoi permettertelo. Quando hai Aatrox top, che muore livello 1, livello 1, capisci che... Mmm, insomma. Aatrox contro i giusti champion è pure forte, però, o sei un one trick pony e conosci ogni singola cosa che fa... Oppure non hai motivo di giocarlo. Eh, no, non è molto... Il top è proprio zero. È la storia di Shaco. È la vita di Shaco, praticamente. O sei un one trick pony, oppure non hai un senso per il quale poi devi giocarlo. Aspetta che ammazzo un po' di gente qua. Ah, via. E via. Ah, c'era Morgana. Vabbè, tanto non sarebbe cambiato nulla, non avevo lei. Avevi fatto un pochino di danno e basta. Io comunque ci ho appena fatto caso che non ho messo aereo, io ho tenuto la cometa. Mmm, vabbè, dai. Cioè, ci sta, sì, ci sta, però... Ma che cazzo fa, Zir, ma che continua ad andarsene? Eh. È stupido. Non lo saprei mai. È quella la cosa divertente. Guarda, ci ha fatto caso e caso. O ha preso i frutti mielosi, o non ho idea del perché l'abbia fatto. Fruttini mielosi. Mmm. Non dovrebbe morirci, però... Comunque li faccio abbastanza danno. Ok. Almeno lo tolgo dalla lane. Pensavo stessi parlando di Atrox perché era leggermente in difficoltà. Ma leggermente, sarà mica che muore adesso. Mmm. Mmm. Dai lì fiducia, magari Raylia ha una cappellata. No, è stato direttamente fermo. L'ha divata? Sì. Cioè, la semi-dive... Non era un dive, però... Non perderci manco tempo con lui, tanto... Eh, ma il fatto che Raylia lo ingaggia all'infinito, quindi è anche buono per me andare top. Ovviamente le kill punteria a prenderle io. Non è lasciare... No, ma non è la nostra condizione di vittoria lui qui in questi cazzi. Non fidare all'infinito. Cioè, insomma... Gradirei che non fidasse all'infinito, però. Ma questo non si ha accorto che gli stava facendo il granchio di fianco. Era anche guardato. Il flash è là, eh. Ok, sta cosa... Ok, Raylia sta scendendo. Sì, 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 ma io me ne vado ora. Anzi, no, non me ne vado ancora perché mi servono 900 gold. Non ho solo 800. Fatto bene a non usare il Predator. Sì, ti saluto il tuo amico Luca. Ciao, Luca. No, ciao, ti schifo, no. Allora, il signor Kebab se ne va. Io ne approfitto, ripusciuto la lane. Ok, non se ne può andare. L'oppresso. Bravo, bravo. Non dargli tregua. No, no, infatti. Cioè, finché è senza mana qua, ma è sta bene. Tanto io sustain di mana ce l'ho, lui no. Cioè, Warwick dietro la sua torre, non so perché. Ho visto, ho visto. Cioè, io Warwick qui in mid lane. Probabilmente va al suo red. Anzi, molto probabilmente va al suo red. Perché dovrebbe essere up. Sì, sì, sono fatto il mio. Bot, vedo che il vantaggio è servito. Perfetto. Allora, Zier si è perduta questa wave. E torna più o meno in 25 secondi. Warwick è qua. Non mi rompere i coglioni, per favore. Grazie, è molto gentile. Vado back, prendo lo smite rosso. E vediamo di fare qualcos'altro adesso. Allora, mid-defense ha flash. Se lo ganchi, io la ulti lo ammazziamo praticamente sempre. E poi possiamo ruotare, magari a fare il... Vabbè, l'herald no, perché è spuonata a due minuti. Ci sta, bella blindato. C'ho anche la ulti, quindi... Li violentiamo. Una volta stiamo spaccato tutto. Eh beh. È la madonna. Le Zreal. Dopo le due kill che abbiamo preso. Troppo forte Zreal in sto meta. È abbastanza. Ha bene il 60% di minorezza, così. Ok, che babbo è qua? È un'aranca, sì, è un'aranca. Stiamo facendo due kill io e fieri. Lui usa lo smart perché io sono il Omer. Vabbè, lo siamo stato anch'io tanto tempo. Cioè, anche il Diamond 5... Eh, insomma, ecco. Ahimè, lo conosco perché ho fatto la route to Diamond. Sono salito a Diamond in un mese. Al Diamond 5 ho detto... Ho smesso di giocare. Non ho più giocato per due mesi. Per quello poi sono sceso così tanto. Per un'attività, mica, peraltro. Io ho fatto una discesa gigante. Ti parlo dopo che ora stai salvando. Madonna, Atrox! L'ha killato? Regà, non se l'aspettava nessuno. Prendiamo sto clown qua, per favore. Ecco qua, tieni! Thank you. Oh, ma che amore. Ma hai anche dato la... Grazie. Non te lo ho la... Ma l'ho preso, infatti. Ah, l'hai preso tu! Ho preso di merda, allora! L'ho preso di Red! Stavo aspettando, poi è morto di Red! Oddio, questo non me la sto lasciando, che carino! Ma infatti te la volevo lasciare, poi è morto di Red! Ce l'ha la ulti, il tipo, qua? Sì, ma tanto ce l'ho anch'io e se ti tocca è morto. Perché gli plano in bocca con la ulti. Anzi, 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 vieni... Oh, pazzo, pazzo! Ah! Ce l'aveva. Venga a prendere il blu. Potevo silenziarlo prima, aspetta, push la Waze. Cioè, push la Waze. Faccio... Faccio pushare la Waze. L'arrivo. Venga, venga. Sta arrivando una ulti di Ezria, non so perché. Speravo a pullarmi il blu e invece... Thank you! Ah, la tirata, ok, perché è appena morto Botley. Sì. Vorrei andare... Ma, bravo un ping aiuto, lì. Eh, non posso andare. Cioè, se tipo bot... Io... No, no. Non posso tipoare bot. Dai, io credo in te. Non so se a Zyrs va top lane, in caso stai attento, ma in teoria non dovrebbe. Cioè, se ne è andato, ma non dovrebbe... Abbiamo appena fatto una cosa carina in top. Abbiamo dei vato e gli ho tancato la torre. A Zyr è lì, quindi apposta. Madonna, quanti danni gli sto facendo a sto poraggio. Bene, bene. Cos'è che ha lui il cleanse? Sì. Sei stupido, non lo usi. Infatti non l'ho ancora mai usato. Neanche prima. Guarda caso. Forse sei fatto due domande. Ma questa cosa non funziona. È rotto. Top, raga. Sono tornato, c'è gente... Sono tornato, anche se in realtà sono tornato una settimana fa, però... Il War Requiem? Mmh. Molto bene, salutamelo. Ma il tuo Red non è ancora up. Quanto manca? 49. No, però la botta... Mi sa che mi sta facendo questo. Tanto ce l'ha, sì, ce l'ha. Io nel Clans con la usi di Monza non funziona. Eh, lo so. Infatti lo stavo prendo in filo. Ma è il zio che non lo sa per l'Inter. Devo stare attento. Ah, che mi ha fatto? No, non me li ha fatti. No, infatti stava solo passeggiando, cioè... Eh, ma l'ho visto qua. Ho detto, cazzo, col Tiamat se li fa in due secondi. Invece no. Vabbè, meglio... Ma se glielo buttassi nella schiena... Aspettate... Eh, ci ha pensato... Arrivo, bro. Non ha capito proprio un cazzo, questo. Oddio, 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 che culo! Vai, tutti i tuoi. Tutti i tuoi perché io non credo di poter raggiungere. Eh no, sono morto. Cioè, morto non sono, ma... A caso? No, non funziona. Ok, hanno usato tutto, però. Ma tu te ne hai mai a casa tua. Basta, l'altro... Minumale che avevo lo stopwatch. C'è Lilia. Grazie, UIA, per il sub. Me l'hai fatto proprio in un momento. Però, alla fine... Grazie mille. Cosa può annullare l'ultima? Zara, il... La QSS. E anche il Mikael. Però... Aspetta, te lo devono tirare addosso. Esatto. Non puoi tiratelo addosso da solo, quello non me lo ricordo. Mi sa di... Non me lo ricordo neanche io. Cioè, se sei cicciato, non lo so. Eh, in quel senso lì. Forse sì, forse sì, forse... No, forse sì, forse si può. Però nessuno si builderebbe mai il Mikael da Vinci. Perché non sei caro. Giusto la QSS in quei casi lì, ma... Eh, quella sì. Allora... No, no, neanche... Nulla ha nulla la... La E di... Cioè, la R di Malzart. Tranne forse l'arancia di Gameplank. Sì, quella sì. E... Vabbè, o se non ho cappi o altre cose. Azzir scende bot. Azzir bot, non posso girlo per ora. Però cazzo, c'è il Drago. Aspetta che vado a dare un'occhiata. Gli ho preso l'Eld. Quello c'è Mortis, potrei provare una mano. Loro si fanno il Drago, probabilmente. Sì. Bravo. No, non posso lasciare di questo problema. Ok, non lo fanno più. Ahia! Ok, non lo fanno più, perfetto. No, ragazzi, Arc non posso farlo, perché non ho il PC nuovo. Pesantello. Eh, sì, ma poi... Io ho una 750 Ti. Sì. Quindi... Eh, esatto. I giochi che la sfrutta e che la devono sfruttare. E mi dà un sacco fastidio, perché a me piace un botto quel gioco. Non voglio portarlo con la grafica a merda. Sì, sì, capisco. Quindi sospettando che il PC mi arrivi. Hai già ordinato tutto? Sì, sì, mi manca solo il processore. A posto. Poi tiratelo sempre da solo. Lo dico da ben Soraka. Eh, ok. Quindi anche con la ulti di Malzare, apparentemente. Qui, se Malzare ti ult, a parte che... C'è una cosa per i support, più che altro. Sì, sì. O altro. Per quanto sia forte, spesso. Per quanto è forte, però è molto estazionale. C'è il blu. Guarda, puoi anche prendetelo. Non ho bisogno. C'è un sacco di regenazione. Ok. A posto. Se lo vuoi, penso che ti servirebbe. Ho usato le caremi ieri e non riuscivo a fare un cazzo. Senza blu non riuscivo veramente a fare un cazzo. Eh, che cosa, Baio? Non ho mica capito. Come? No, mi chiedono in chat. Il canale di questo con il quale stai giocando, virgola, di Ian. Cioè, nel senso, sai chi è? Allora... Sì. Vabbè, magari mi ha guardato sulla... No, più che altro non ho capito esattamente la domanda. Cioè, mi stai chiedendo se è effettivamente quello di Ian. Sì, sì, amico, sono Ian. Perché in caso, sì, è Ian. Se mi stai chiedendo come si chiama il canale di Ian, basta che apri la direct di game, che è Ian Reformed, giusto? Sì, esatto. Non mi faceva mettere il 91. Non so perché. OI! Io non muoio, ma... Hai rischiato. Oh, cazzo, è morto. Sono muerto. Ha flashato Irelia. Vabbè, non... È abbastanza war. Cioè, abbastanza war perché abbia flashato. Io ho ancora una kill. Che succede in Botry? Ho ancora una kill. Boh, Ezreal fa il matto. Eh, sta arrivando anche Irelia, quindi... Sono peselli, anche a Zero. A Zero no ult, a Zero no ult. Sì, però... A Zero no ult, neanche Irelia l'ultima. E io posso tippare bot però tra dieci secondi. Se è riuscito a resistere... Se è riuscito a resistere riesco a tippare bot. Guarda, io faccio così. Arrivederci. Via. Uno. L'hai investita un treno. Poi mi dicono... Perché, scusa, gioca a Rambus. Rambus si va a sbattere. Eh, Karim, le investe i nemici. Non capite la differenza. Cazzo. Spera che Irelia vuole fare la furba. Sì. Vieni, vieni. Vieni, Irelia. Eeeh. 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 Scusate, ma sto azzirno? Cioè. Ecco fatto, arrivederci. Non so, è qui. Oh, a posto. Se azzista ha parcheggiato lì dietro, è bellissimo. Sì, era lì fermo. Sotto la sua torre bisogna essere immortale. E nessuno frega un cazzo. Non riesce a fare da sole il drago ha bisogno? Eeeh. Senza smite non lo so, perché è quel poco di vita. Vabbè, vengo per quanto... Vengo per quanto quando facciamo un cazzo. No, è che ho 3000 gold, quindi... Cioè, con Trinity è tutto, sì. Con 3000 gold in tasca non ci combino molto. E tuoi là. Andiamo, via! Minchè se lo stai carriando, fammi vedere. Ian, 012, io 501. Perfetto, sì, lo sto carriando, ragazzi. Eeeh, che ci volete fare? Le forte, forte, le carri... Del Rick. Non pensavo, non pensavo. Mi hai piacevolmente la sorpresa. Gioco soltanto quello adesso, quindi almeno... Almeno dimostra che... Penso che lo debbano buffare. Leggermente, se non ho capito male. Il fatto è che Karim in questo momento è molto forte, ma ha la sua funzione. Cioè, che ne investe uno, l'ammazza fine. Sì, quello sì, quello sì. Eeeh... Tu ne investi uno, sì, ti riviella di Karim o... Mi fa ridere che dici, lo investi uno. Sì, perché... Alla fine è quello che fa, però fa ridere. Fa ridere. E comunque sì, è anche un po' un problema in Irly se ti... E lo killza o il Kajig's di turn. Sì, anche perché... Cioè, non lo giochi con il flash, quindi se ti counter jungle è un po' un casino. Il fatto di non avere il flash fa molto la differenza. Forse l'ho sprecata, ma non credo. Potrebbe essere buona. Oh, per una kill! Sono utile! Ahia! Tiremo via la control. Vi state eseggiando solo, esclusivamente, perché avete Ezreal. Che bella vita. Sì, anche io faccio un po' di danni. Dio. Irelia, 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 Irelia. Guarda. Ciao, Caitlyn! Sì! Madonna, santa che danni! Non è cazzo me ne frega, è solo slow-out. Loop in my horse, boss is amazing! Mi ricordo questa canzone. L'ho shotata anche da slow-out, ragazzi, è bellissimo. Poi mi sa che la chiudiamo qui, sai? Io l'ho ulto tra nove. Oh cazzo, no! Mi è finita lei in quel momento, no! No, non muore, non muore, vuoi troppo. Troppo forte, per il morire, ragazzi. C'è un po' da fare. Guarda questo! Bravissimo! Un po' tanto, un po' troppo, mi sa, però... Perfetto, ragazzi. Non la chiudiamo, però ci siamo andati vicino. No, no, chiudarla. Chiudarla. Cioè, c'è il Baron tra 15 secondi, però non allo smite, quindi... Andiamo back, prendo una pink, lo settappiamo e... La lasciamo. Faccio il loro bellissimo red. Se loro vengono... Se loro vengono, li insta killiamo. Io mi faccio direttamente la maschera, ho i soldi, però... Però non ho i soldi per la... Atrox, proprio il minimo indispensabile, 3, 2, 1, cioè, non... Vabbè, un pochino, cioè, un pochino, a farmi chiare. Non è stato un peso, più che altro, quello è tanto. Eh, 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 non è da poco, effettivamente. Considerando il champ che è. Comunque c'è il blu, prendilo pure. Mmh. Ho la ulti di... Ho la ulti ogni 55 secondi a livello 2. Il cappello supremo è stupendo. Bellino, bellino. Non hai idea di che cos'è con Lux. Ecco, se vuoi giocare ancora, dopo uso Lux. Va bene, va bene. Un'altra me la faccio. In genere staccherai adesso, però, sti cazzi. Ah, vuoi staccare adesso? No, ho detto in genere stacco, però... Devo recuperare che io non sono andato in live. Causa, ban. Molto simpatico. Aspettate, che stanno a fare questi? Oh! Oh! Perché siete giganti, però? Ma sì, ma fanno quel cazzo che gli pare. C'hanno Atrox, cioè. C'hanno Atrox che in base. Atrox è in base. Sono solo due, c'hanno il cazzo d'acciaio, sti qui. Sì. Dopo che mi ha dato Kate in 05, che non c'ha il cazzo d'acciaio, scusa. E' bello. C'hai ragione pure tu. Piero, quando è nata amicizia con Ian, non lo so, semplicemente mi ha chiesto, c'è Ian che vuole fare due, e io ho detto ok. Ehi, ti ho visto, ho detto, chissà se vuole farsi una trollata. Questo vuole... Ti diverti a trollare come me? E' vero, però... Mi diverto un sacco giocare Hecarim in questo periodo, quindi... Ho ripreso in mano il main solo per questo, perché Shaco mi aveva stancato. Mi uccide? Forse non mi uccideva, ma... Better safe than sorry. Ecco qua. Ho fatto double chi come? Quando? Che non ero neanche vicino. Guarda, mi sa che l'ha fatta la malattia. Molti mi chiedono sempre, Ian, ma... Cosa devo usare per scalare in bronzo, in silver, da mid laner? Malza! Non fai un cazzo! Tiri la E, tiri la W, fa tutto da solo, e ogni tanto usi la R per bloccarne uno. Ci sei ancora? Sì, sì, ci sono, sono qua che... Ok, pensavo fossi caduto! Pensavo fossi caduto! Guarda, 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 sei pronto che investo qualcuno? Ma spazio, perché sono solo con i sal... Vai, tanto muori. Allora, vediamo un po' chi investire. Lei. No, Maxostato, che merdaccia! Non vale! Fatemi usare le spell! Oh, però era... Era quasi full vita. L'ho fatto tutte le engage e l'ho tolto la metà vita che aveva. Se non fossi un Maxostato, veniva shottata. Il peggior nemico dei... degli assassin. Esatto. Un santo exhaust. Perché eri saputo che... Se lo ricordi quando toglieva armor senza magica... Sì, sì, che lo giocava in top, in mid... Porca troia, io lo odiavo. Io impazzivo. Tre exhaust c'erano ogni volta. Un po' tre mesi si sgomberà! Impazzivo, letteralmente impazzivo. Allora, facciamoci il barbone. Un rom da qualche altra parte. Facciamoci lo barbone. KD Ian cosa usa in giungla quando trolla? Cosa usa in giungla quando trolla? Bellissimo. Me l'hai detto che prima lo stai giocando. Quello è un inferno. A noi piace anche il secondo. Sì, sì, sì. Poi potremmo andare al barone e chiuderla volendo. Oppure shot qualcuno? Fammi... Però non ho le... No, non posso sceltare nessuno. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. JK, JK. Comunque sono 6-1, cazzo, posso investire chi voglia. Sì, sì, quello sì. Dobbiamo fare il barbone. Dobbiamo farci un giro. Sì, ragazzi, Sion Full Letality. Bellissimo. Tu non so se hai un'idea di quanto è cattivo Sion Full Letality. Sì, me lo son trovato controfiddato. Mi ha... Penso ho asciutato solo di Q. Di Q e di autotacco di Drakhtar. E Garen, anche lui è molto simpatico a Full Letality. Garen devo farlo nel video di dopodomani. Però non posso farlo con Letality. L'ho usato in giungla l'altra volta per trollare. Andiamo top lane. Zreal? Hello? Top mid. Tanto sta respawnando adesso, quindi. Basta che ci andiamo. Vabbè, Orsen. Allora. Io adesso investo l'inibitor. Vediamo quanto li tolgo. Io dico la metà. Ecco. No, no. Ma non ho usato tutto, ho usato stanto lei. Guarda la mia Q, guarda la mia Q! Non ho visto. Che schifo. Ho smazzato Kate. Madonna. Vabbè, quella Kate poi. Sì, ok? Che è tipo 70 level in fondo. Devo assolutamente investirla. Devo assolutamente investirla. L'exhaust non ce l'ha. Dobbiamo tenermi in mana perché sennò Irelia ci fa manzo. Il Ghost ce l'ho tra un po'. Alla bottling non c'è modo di pusharla, quindi stiamo qua. Perché abbiamo la bottling così così? Non lo so. Un motivo c'è, però non lo sappiamo. Vabbè, aspettami su per me e non alla fine la facciamo così. Che silenzio. Ebbè. Warwick mi sa che sta un po' trollando, eh. Eh, ma non è nemmeno l'ultimo, è stato per scappare, quindi è praticamente una bestia ferita. Non serve a un cazzo. Devo investire qualcuno, mannale. Attenzione Aatrox, con la ult addirittura. Che cattiveria contro quello che scappava e basta. Non faceva assolutamente niente. No, non l'ho preso. Guarda quello lì che si è fatta la... La corazzata. Tanto le torri vanno giù. Aspetta, aspetta, lo investo Ian, guarda, guarda, guarda. Ah, l'ho usato il clearance, vabbè. Sì, sì, l'ho usato per... Poco male. Peccato che ti ha buttato indietro. Sì, sì. Questo muore, questo muore, questo muore. Ah, boccato. No, no, che ci muori! Ah! Pensavo volessi finire la tua vita così. Ecco fatto. Lei di... Sì, lei di Econ è un prolungamento dell'attacco base, quindi funziona come attacco base. Semplicemente lo calchi e lo fai con le g no. Ah, dai, io sono molto intento a onorare Atrox, sinceramente. Io ti do un great shot calling. Ah, no, no, l'ha fatto bene, cioè, non è morto. Esatto. Cioè, non ha fatto così male. Sì, diciamo che è morto il livello 1, che è stato un po' imbarazzante, però... Insomma. Allora, che cos'è questa cosa che mi stanno dando? Eeeh, la Mastery 5 su Hecarim, dopo un milione di game che l'ho giocato. Bene, bene. GGVP punto interrogativo. Chi è che lo scrive? Ah, Braum. 22 leppi... Madonna, sono 97. Anche tu? Chi sono 97? A posto, allora vinciamo questa, andiamo in promo. Ok. E poi... Poi, sinceramente, mi piacerebbe anche cenare. Io l'ho già... L'ho fatto alle...